Oroscopo del giorno, giovedì 28 dicembre 2017. Ariete. Amore. Toro. Amore, trascorrerete serenamente questa giornata, il partner saprà dimostrarvi tanto amore e saranno moltissimi momenti dintimità che rinsalderanno il rapporto. Chi è solo dovrà sfruttare le occasioni dincontro, oggi potrete incontrare qualcuno di speciale. Lavoro, affrontate questo giorno con fiducia, la vostra visione delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà vincenti. Gemelli. Amore, tanta dolcezza nelle coppie. E anche se ci saranno incomprensioni con il partner sarà un modo per spronarvi a fare meglio, a correggere gli errori e a modificare quello che non soddisfa. I cuori solitari potrebbero apparire scontrosi, meglio elargire disponibilità. Lavoro, anche se non ne avete voglia, sarete costretti ad affrontare una questione che vi sta dando del filo da torcere. Cancro. Amore, giornata tranquilla per chi ha già un amore, potrete contare su un Eros alle stelle che spazzerà ogni dubbio e ogni incertezza. Sarete intriganti e affascinanti. I single potranno usare tutto il loro fascino per conquistare la persona desiderata, oggi farete colpo. Lavoro, Marte intrigono vi donerà energia e determinazione, saprete affrontare tutti i contrattempi. Leone. Amore, qualche piccolo screzio con la persona amata può portare a galla questioni irrisolte. Non prendete decisioni avventate e lasciate che gli eventi scorrano prima di agire. I single si divertiranno con gli amici, una cena o uscite in vista per la serata vi renderanno carichi. Lavoro, sul lavoro la grinta non vi manca, ma oggi le emozioni prendono il sopravvento e lansia rischia di bloccarvi. Vergine. Amore, con la luna intrigono riuscite a vedere al di là delle apparenze e a capire quando è meglio dire una parola in meno. È la giusta scelta per evitare litigi col partner. Per i single relax e riposo sono allordine del giorno, le feste vi hanno stressato. Lavoro, non dimenticate di rispondere a importanti contatti di lavoro, cercate di essere più concreti per non perdere le occasioni migliori. Bilancia. Amore, non perdete tempo a rimuginare sui torti subiti, guardate al futuro con serenità ed ottimismo. Grazie alla luna in toro, migliora l'umore e l'intesa con la persona amata ritrova energia e interesse. I single trascorreranno una serata molto piacevole, a casa di amici. Lavoro, le stelle invitano a riconsiderare alcune collaborazioni, ma non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno. Scorpione. Amore, la luna nel segno opposto annuncia novità sulle relazioni, in primis l'amore, ma anche apertura alle amicizie, che vedranno sorgere nuove intese e interessi comuni. Venere è dalla parte dei single, segno che protegge ogni iniziativa e ogni incontro. Lavoro, prudenza negli investimenti e nella scelta delle strade da seguire per realizzare i vostri obiettivi. Sagittario. Amore, in questo periodo di festività siete più propensi ad assecondare i desideri della persona amata e sarete ben disposti a cambiare qualcosa e a trovare nuovi equilibri. I cuori solitari dovranno fare tesoro delle esperienze passate e mettere i piedi per terra. Lavoro, ottime soddisfazioni al lavoro, anche se avreste volentieri fatto molto altro. Comunque, si preannunciano belle novità. Capricorno. Amore, nell'amore non vi manca nulla, ma potete fare qualcosa per migliorare il rapporto che avete con un pensiero affettuoso. Ogni tanto una sorpresa fa sempre piacere. I single oggi godranno di un clima mite e sereno grazie alla luna amica. Ottimo momento per farsi avanti. Lavoro, l'atmosfera è molto serena con i colleghi di lavoro, avete stretto alleanze e cooperato senza protestare. Bravi. Acquario. Amore, la luna vi guarda storto e farete buon viso a cattivo gioco di fronte ad una situazione delicata. Meglio cambiare aria e stare lontano dalle tentazioni. I single potranno prendersi qualche giorno di pausa e regalarsi una meritata vacanza. Lavoro, questo giovedì si annuncia difficile, è il momento di affrontare con responsabilità ciò che non va. Pesci. Amore, avete davanti una giornata ricca di piacevoli novità. Se decidete di uscire in compagnia, meglio tenere il partner lontano da gente sofisticata e un po' snob. I single potranno iniziare una nuova storia, ma attenti alle prime impressioni. Lavoro, Marte in aspetto di trigono vi lancia decisamente in orbita e negli affari farete faville. Una volta tanto vi va bene. Amore, Marte in aspetto. Amore, Marte in aspetto.